Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole, oggi ragazzi sempre qui dai boschi di Trebbana dove stiamo provando coltelli e tritando tutto, vi presento le collezioni primaverili di questi tre brutti ceffi, via! Ciao ragazzi, sono Stefano di Blacks Axies & Blades, oggi vi faccio vedere qualche coltello che ho portato a questo raduno, molto bello tra l'altro, ci siamo divertiti un sacco partiamo da questo piccolo, coltello da bosco ma da dimensioni ridotte, 80crv2, manicatura in zircote e spaziatori in fibra vulcanizzata blu è un coltello che un po' per tutti gli utilizzi a bosco, si può utilizzare anche per batonare, ha comunque delle buone doti di taglio però lo spessore non è insomma ridotto quindi bello resistente in sostanza è un po' un coltello, il mio coltello di backup che mi porto dietro per evenienzie varie insomma tra cui tagliare il salame tra cui tagliare il salame arrivare in amore fodero in cuoio presso formato quindi non ha nessun laccio però non esce nulla ottimo coltello da bosco costo ridotto e dimensioni ridotte quindi per non andare in giro con le sberle come il mio preferito come il mio preferito questo qua è completamente un'altra concezione di coltello sempre 80 crv2 che però con questo coltello dimostra davvero tutte le sue doti come acciaio quindi fa vedere davvero la sua resilienza nonostante abbia uno spessore molto ridotto è in grado davvero di cioppare avere le stesse prestazioni di un coltello di un bel putrellone proprio appunto per le sue proprietà rimane più leggero e più maneggevole si riesce a utilizzare meglio manicatura in ebano bianco molto bella a me piace un sacco e ovviamente sempre forgiato integralmente guardia forgiata questo è un mio amore devo essere sincero mi piace davvero tanto ora vi faccio vedere invece un giochino che ho portato per i miei amici un pipe tomahawk perchè pipe? spiega perchè pipe tomahawk perchè ci si può fare la guerra ma si può anche fare pace con le altre tribù rivali e con il rivale in amore perchè è dotato di pipa funzionante tutto il manico in noce è forato e c'è un'anima di alluminio un tubetto di alluminio lungo tutto il manico il braciere ha al suo interno un termine tecnico uedra che si può svitare per pulire a parte il discorso ludico comunque è un tomahawk dalle buone prestazioni il corpo è in c50 il tagliente 80 crv2 arriva abbastanza sottile quindi improntato sul taglio non sullo spacco anche se funziona lo stesso anche per lo spacco su roba piccola ovviamente ci si può divertire anche a lanciarlo come dicevamo prima con i miei amichetti del bosco niente questi sono i pezzi che ho portato al raduno spero che vi piacciano ste ormai ti conoscono tutti ma se ti vogliono nuovi amici che ti vogliono incontrare a parte le chat d'appuntamento dove ti trovano su instagram e su facebook blacks axis and blades il mio logo è il cervetto il cervo il teschio di cervo quindi abbastanza riconoscibile disponibile sempre per tutti chi ha già fatto qualcosa con me sa come lavoro mi piace parlare con con il mio cliente capire le sue esigenze quello che vuole fare quello che non vuole fare e quindi fare prodotti assolutamente personalizzati e unici sul sulla persona grazie mille ste ciao a tutti mi chiamo mauro miliano alcuni di voi si ricorderanno di me per il video del six il coltello in a2 oggi volevo presentarvi altri miei pezzi incominciamo dal più piccolo questo è il rookie un coltello pratico leggero veloce sempre in a2 copertura rivestimento ovviamente per preservare i vari agenti i vari fattori di quali ruggine eccetera eccetera è un coltello molto leggero pratico col suo bel kydex e il queen gear che permette il porto sia verticale sia orizzontale solamente in un click cintura tac lo girate può essere portato scout carry un colpo viene fuori quindi lo rimettete dentro comodamente col suo bel accettino e questo è diciamo uno dei più piccoli della gamma quest'altro modello invece presenta un fodero diverso dal precedente è con due fogli i suoi due bel accettini per tenerlo dietro la cintura sempre in a2 acidificato per il discorso sempre che facevamo prima manicatura grigia viteria nera per dare un tocco di chic e l'accettino per portarlo al polso sempre un coltello da campo pratico leggero per i lavori più svariati per un tutto fare diciamo passiamo a qualcosa di un po' più pesantino questo è il fratello minore del 6 è il 6 2.0 qui lo vediamo sempre con il queen gear poi rotearlo poi portarlo come vuoi qui lo vediamo in una versione un po' più leggera è usato naturalmente i nostri amici l'hanno sfruttato a dovere manicatura in g10 con questa particolare lavoratura lavorazione a cella d'ape come potete vedere viteria sempre la mia preferita viteria torx con pin di sicurezza suo bel foderino in kydex estrazione a una mano e via il più grande prodotto della serie allora questo è il ticinum è ancora in fase di sperimentazione grazie a floriano e gli altri amici sono riuscito a raccogliere informazioni importanti per poterlo rimettere a posto ha molti punti di forza piccoli punti deboli si può migliorare ma diciamo che siamo un buon punto anche qui l'accettini per portare lo scout carry estrazione una mano sola del kydex questo è il n690 spessore 5 mm e mezzo e è studiato per essere un coltello che copre una fascia di lavori dai più gravosi ai più fini un tagliente molto molto tagliente per i lavori appunto più fini ma per i lavori più gravi si presta anche decentemente grazie a questa lunga battuta ideale nel battling soprattutto nel battling e per preparare anche fuochi o campi al volo sempre questo bel fodero buon dia ragazzi dove possono trovarti potete contattarmi tranquillamente o su facebook o su instagram basta che mi cercate Mauro Miliano queste sono le mie nuove proposte per il parchetto del taglia gole per tutti gli amici che ci seguono ciao saluto grazie mille Mauro ciao a tutti sono fra xknives e oggi vi mostro un po' dei miei coltelli forgiati allora partiamo da questo coltellino da campo forgiato interamente a mano quasi bisellato tutto di martello e questo qui è un manico in radica di pioppo stabilizzata e resina e questo qui è un pratico coltello da portarsi sempre dietro e avere un valido compagno di avventura poi andiamo un po' su i forgiati completamente a mano quindi manico tutto ricavato di martello questo qui è un coltello che si può utilizzare più che altro per uno scopo alimentare quindi cucinare nel campo e poi andiamo sui coltelli un po' più da scanno quindi da caccia un po' più sottili 3 mm di spessore sempre c75 tutto forgiato manico in radica e ragazzi cosa vi posso dire carbonioso ci puoi menare sopra dici gli acciai che mi sembra che non li hai detti questi due sono in c75 questo qua invece è in c70 quindi abbiamo un bel coltello che tiene la sua durezza per quello che può avere un carbonioso e anche la sua bella elasticità se ti vogliono trovare ragazzi dove ti trovano ragazzi mi possono trovare sia su instagram che su facebook fra xknives e ragazzi questo è il mio logo quindi andate a vedere la x la trovate un po' ovunque questo è il mio bigliettino ok eccolo qua è a fuoco non lo so aspetta un po' eccolo lì ok perfetto faccio un'altra carrellata e finiamo dai la nuova linea di coltelloni inizierà con la vostra richiesta questa è la mia nuova linea panzer ovviamente in varie lunghezze con vari controfili in base alla vostra richiesta al vostro utilizzo sempre in c75 manico in questo in particolare è in noce italiano e regina e un bel coltellone da portarsi dietro per divertirsi grazie grazie mille francesco ragazzi c'era da rifarsi veramente gli occhi dei pezzi veramente bellissimi da parte di questi tre personaggi che in realtà sono bruttissimi ma di fianco a me ragazzi risultano tutti brutti perciò non c'è niente da fare la mia bellezza nello schermo è superiore a qualsiasi coltello farò video con solamente la mia figura e basta non vi farò vedere più nulla ragazzi a parte le cazzate grazie mille a tutte e tre ragazzi grazie a te ragazzi di avermi fatto provare i vostri pezzi in questi giorni è stato veramente bello stare tra amici stare con paolo che sta tenendo il cavalletto con ramon che è lì è stato veramente bello restare qua provare i coltelli in amicizia ragazzi confrontarsi in amicizia con i ragazzi è veramente bellissimo dormire insieme a blacks è stato uno spettacolo quando era di schiena con i capelli lunghi ha rischiato tantissimo ragazzi da tutti gli amici dal parchetto del tagliagole è tutto buona giornata e ciao ciao